Con uno dei senatori della sassa di calcio Vata Dolce, Pierpaolo Garau, riduce da una prestazione davvero incredibile domenica scorsa nella stracittadina, a questo riportano le cronache, ma d'altronde non è una sorpresa, questa è una squadra che ha nell'area portieri per esempio il massimo, abbiamo tanti bravi ragazzi fra i pali, ma tu insomma sei un po' la chioccia. Sì dai, io sono il vecchietto del gruppo, sì sono contento della prestazione di domenica ma soprattutto perché poi è servita ad arrivare al risultato finale, quindi ha contribuito al risultato della squadra e quella è la soddisfazione più grande che un portiere possa avere diciamo. Si parlava poc'anzi, non a caso, di area portieri, sembra che sia uno dei leitmotivi di questa società a levare un ruolo davvero importante nel seno di ogni squadra, quella dell'estremo difensore, il numero uno. Sì, la cura del settore giovanile qua a Vata Dolce si sa, è risaputa, è mirata, abbiamo dei preparatori molto bravi sia nel settore giovanile come Sergio Pinna, è sottoscritto che dà una mano fino ad arrivare a Mario Pompili in prima squadra che è il top penso per la categoria e poi da un paio d'anni ci siamo cimentati con Future Lab ad aprire un'area portieri, si fa lo studio della prestazione del portiere e la verità è molto intrigante, personalmente il ruolo che io faccio da una vita ma mi ha aperto tanti orizzonti, è un mondo da esplorare, è nuovo anche perché siamo tra i primi in Italia ed è molto bello, ci sta dando grosse soddisfazioni e speriamo di allargare gli orizzonti presto. Torniamo al campionato, sarà appena la seconda giornata, sabato si va a rendere visita a una delle formazioni accreditate per la vittoria finale. La Sassari Calcio Vatte Dolce ha cambiato abbastanza ma non tanto durante la stagione estiva, avete rinforzato determinati ruoli, è chiaro che la chimica di squadra va ancora raggiunta Pierpaolo. Sì, ovviamente poi come dici tu l'inizio della stagione anche se si cambia poco ci vuole un attimino di rodaggio è normale, però abbiamo la fortuna di avere un gruppo forte, solido, uno staff che ci accompagna già dall'anno scorso che ci fa lavorare bene, quindi siamo con i piedi per terra ma consapevoli della nostra forza. Ultimissima domanda, ritornando sempre al discorso del campionato, ci sono diverse squadre della nostra regione e l'augurio di tutti è che insomma tutte possano ben figurare, ma secondo te si potrebbe utopicamente ritornare a quella che era la famosa serie D regionale? Perché mi pare, almeno per quanto riguarda l'abbattimento dei costi, delle trasferte e quant'altro, potrebbe essere uno degli sbocchi importanti anche per riportare tanta gente agli stadi. Sì, se ne è parlato diverse volte in questi anni che facciamo una serie D, per noi sarebbe il massimo sarebbe una gioia per tutti, penso in Sardegna, anche perché si abbatterebbero i costi, si darebbe la possibilità a una squadra sarda di andare tra i professionisti, secondo me si creerebbe, come dici tu, un pochettino di entusiasmo, sarebbe bello, non so quanto sia fattibile, ma perché no, ci speriamo. Parola di numero uno per quanto riguarda il proseguo di questo campionato, cosa possiamo dire ai tifosi, agli appassionati? Che sicuramente ce la metteremo sempre tutta in campo e proveremo a fare il meglio possibile per onorare questa maglia, questo quartiere, questa città.